Sulla campagna vaccinazioni si susseguono posizioni critiche ad intervenire ancora una volta il coordinatore delle associazioni dei disabili Massimo Prospero Cocco che ha sottolineato i problemi che sono emersi e che lui come coordinatore raccoglie per quel che riguarda la vaccinazione per le persone fragili e disabili tra i lavoratori della scuola e dell'università. Di questi racconta solo pochissimi sono stati chiamati, poi il nulla. Prospero Cocco parla inoltre di vergogna e bugie nel suo sfogo sui social, raccontate e scrive da chi occupa posti di responsabilità e da chi doveva prevedere queste criticità e spiega che alcune persone sono state chiamate e rimandate a casa senza vaccino, dice. Quelli che sono rimasti fuori sono le persone, i lavoratori che fanno lo stesso lavoro, docenti, personaletti A all'interno dell'ateneo o delle scuole che non sono stati purtroppo chiamati. Cioè i più fragili, le persone più a rischio, un oncologico, un dializzato, un diabetico, non è stato chiamato. Invece le persone che probabilmente potevano attendere ancora qualche altro giorno sono state chiamate. Io sono felicissimo che i miei colleghi siano stati chiamati, però ecco andava cambiato il piano di vaccinazione, cioè a meno andavano indicati delle regole ben precise. Questa è la cosa più grave che è accaduta, nel senso che sono state convocate le persone con fragilità o disabilità quando si sono presentate, e nonostante avessero specificato all'interno del documento che presentavamo la patologia o la disabilità, solo in quel momento in cui sono legati alla vaccinazione gli è stato detto che non potevano vaccinarle perché non ero pronti con i vaccini quelli ARDA tipo Pfizer e Moderna. Il coordinatore delle associazioni ha riferito che ogni giorno riceve chiamate di persone e colleghi esasperati e non si escludono proteste eclatanti. La data ottenuta per iniziare le vaccinazioni a fragili e disabili in generale è quella del 15 marzo, ma è improbabile, secondo lui, che si riesca ad iniziare con puntualità. A questo punto, mentre cambia il piano vaccinale per età e non per categorie esclose quelle fragili e disabili, si chiede velocità e più organizzazione, unica arma per far sì che la terza ondata non sia come le altre in termini di numeri e perdite. Questo è grave perché noi immaginiamo una persona immunodepressa, oncologico, che va lì con un'estrema difficoltà che anche un raffreddore può ucciderlo, va lì e purtroppo la delusione e l'amarezza di tornare indietro è convocata non si sa quando.